L'altra faccia dei supermercati presi d'assalto ad inizio settimana per l'accaparamento irrazionale di generi alimentari da scenario post-atomico è quella del commercio e delle attività ricettive che hanno dimezzato i loro accessi. Alberghi semivuoti e disdette hanno fatto il pari anche con i ristoranti semivuoti e poca gente che prenota. Il comparto dei ristoranti soffre di una paura sicuramente da una parte giustificata ma per quanto riguarda il commercio e i settori pubblici esercizi ingiustificata perché la gente ha paura di muoversi, la gente ha paura di uscire, ha paura di tutto quello che gli viene propinato tra normative e soprattutto prese di posizione. Si può quantificare questi giorni di quanto è la botta che si stanno prendendo i ristoratori? E' quantificabile in un numero molto rilevante, noi parliamo dal 40 al 50% di calo del fatturato. La conta dei danni che la psicosi da contagio ha fatto fino ad ora e con la quale dovremo confrontarci ancora per diverso tempo la faremo più avanti ma di certo è che il colpo di frusta che riceveremo non sarà indifferente perché se un mese si riesce a reggere per molte attività due per molti vogliono dire la saracinesca chiusa. Ma a soffrire sarà anche l'indotto, meno clienti vuol dire meno acquisti e meno acquisti vuol dire meno economia circolante e quindi meno lavoro anche per le maestranze. Parliamo dei nostri fornitori, parliamo anche dei dipendenti perché non dimentichiamoci che a un calo del fatturato comportano anche un utilizzo minore di personale che collabora con i ristoratori. Però il virus non ha fatto i conti con la voglia di ripartenza che in questi giorni capito l'incubo al quale stiamo andando inconsciamente incontro serpeggia tra tutte le fasce della popolazione. Ma sicuramente di tranquillità possiamo dire che l'apice è stato magari mercoledì in cui la gente era un po' presa da questi comunicati che un giorno c'era qualcosa un giorno non c'era magari mercoledì può essere stata una giornata un po' più tranquilla. Però normalmente adesso più o meno siamo nel trend di stagione e sicuramente noi ci adoperiamo anche magari spostando le persone in tavoli un po' più allargate nei giorni normali e qualche ricambio d'aria in più proprio per stare tranquilli. Ma il messaggio deve essere sicuramente un messaggio di normalità, insomma a un certo punto non dobbiamo esagerare, sì è un'influenza un po' più particolare ma adesso con tutto rispetto insomma questo calo diciamo sostanziale non c'è stato.